Sai, curare il proprio genitore è il gesto più nobile di un figlio. Il peccato più grande è fare del male a chi ti vuole bene, quando sanno di aver sbagliato con te, ti evitano. Se ti piace Just Fun World, mettici un like e iscriviti al canale. Grazie. Non chiamarli tutti amici, chiamarli conoscenti, che l'amicizia è tutta un'altra cosa, si tratta di qualità, non di quantità. Quando capisci che stai bene anche da solo, hai già sopperto troppo. Chi non comprende il tuo silenzio, probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Non fidarti di chi entra nella tua vita quando sei felice, ma tieni stretto chi ha conosciuto i tuoi momenti difficili e ha scelto di restare. Meglio le persone sincere, hai sbronze, di quelle lucide, hai stronze. Sai, c'è chi ha tutto e piange per una cosa che non è riuscito ad ottenere. E c'è chi non ha nulla, ma sorride e ringrazia ogni giorno per la cosa più preciosa che ha la vita. A volte passa per cattivo, chi è semplicemente ha sopportato tanto ed ha finito la pazienza. Quello che diamo non sempre torna, ma quello che diamo è ciò che siamo. Non si arriva in alto, superando gli altri, si arriva in alto, superando se stessi. Non ti sanno tenere, ma ci restano male quando te ne vai. Non mollare mai, a volte è sempre la fine della strada, ma spesso è solo una curva sul tuo cammino. Quando hai buon cuore, aiuti troppo, ti fidi troppo, doni troppo, ami troppo. E alla fine sei la sola che soffre troppo. Grazie mille per restare con Just for New World, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie.